Matteo! Allora dove siamo? All'inaugurazione del negozio di mio cugino Giorgio Giorgio? Giorgio? Giorgio sta tempo. Grande negozio. Giorgio 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 Giorgio. Dei fare un negozio una mea! Vi è Giorgio Giorgio Giorgio? Giorgio Giorgio? Ragazzi ti fai mangiando anche io. Dove si mangia? Lui, Giorgio, guarda, lui, Giorgio Lui Giorgio, allora Che dice? Dio, sta un bellissimo negozio Grazie, grazie Allora, ripeto Dove si mangia la storia, insomma Bene, bene Ecco, guarda Questo è il piatto di perfino Ah Da parte Sì Vabbè, ragazzi Scegliamo, ciao